Buongiorno, oggi vi parleremo di gioco d'azzardo online e nello specifico della giurisdizione di Alderney. Alderney è una piccola isola facente parte del Baleado di Guernsey, presente nel Canale della Manica e facente parte della corona del Regno Unito, ma da essa indipendente in quanto avente un proprio sistema politico e legislativo. Ciò che lo rende interessante è il fatto che le autorità, nel corso del tempo, hanno creato un sistema attrattivo per il business del gioco online, proprio perché tale sistema consente di operare sia per società presenti in logo, ma anche per società estere. Infatti, le società presenti in logo possono operare tramite licenze di gioco apposite, mentre per società estere si può operare tramite certificati di associazione. Inoltre, è possibile per società estere poter fornire servizi di gioco online anche per periodi di tempo molto limitati, come per esempio nell'arco di 29 giorni consecutivi. In generale, ciò che conferisce attrazione a questa giurisdizione è il fatto che tramite un'unica licenza possano essere erogati diverse tipologie di giochi. Il fatto che venga riconosciuto a livello internazionale sia da giocatori, sia da società che operano nel mondo dei software, nel mondo dei servizi di pagamento e altre tipologie di servizi, quindi è fortemente riconosciuto a livello internazionale come giurisdizione. E rimonta il fatto che il governo di Alderney non richiede applicazioni di IVA o altra tipologia di rilassazione. Per quanto attiene ai costi di licenze, diciamo, che sono moderati, non così bassi e in effetti è l'unico punto a sapore per questa giurisdizione. Ad ogni modo potete seguirci per avere altri aggiornamenti in materia. Grazie!